Le avevano fatto fare delle analisi cui i risultati arrivati dalla Germania secondo la ricostruzione degli inquirenti avevano prospettato per lei purtroppo un tumore e per questo le avevano somministrato delle prestazioni sanitarie, che ipotizza l'accusa avvenivano anche per via indovina o tramite delle autotrasfusioni ematiche. A marzo scorso la morte della signora Angela, 54 anni di Mirabella e Clano, e l'avvio delle indagini nei confronti di due sedicendi medici di 33 e 42 anni, con le ipotesi di reato a vario titolo di lesioni aggravate, esercizio abusivo della professione sanitaria e per il 33enne, anche di omicidio preterintenzionale. Nelle prossime ore i due dovranno essere interrogati dal GIP, che ha firmato le misure cautelari chieste dalla procura sannita che con i carabinieri hanno condotto le indagini. Attività investigativa che qualche mese prima della morte della donna aveva già interessato i due sedicenti medici, il cui studio a San Giorgio del Sannio era stato sequestrato durante una perquisizione dei carabinieri di San Giorgio del Sannio e del NAS di Salerno, dopo la denuncia di altri due pazienti. Oltre 40 le pagine dell'ordinanza al loro carico, secondo la procura sannita infatti approfittando dello stato di vulnerabilità dei numerosi pazienti, per lo più intimoriti da patologie immaginari diagnosticate dagli indagati che non si limitavano a prescrivere medicinali o rimedi naturali, ma praticando anche trattamenti pseudosanitari o pseudoterapeutici, il tutto per garantirsi vantaggi economici. Grazie a tutti.